gentili telespettatori buona giornata colpo di scena su colpo di scena perché fonti di maggioranza dicono che la norma sul pos potrebbe saltare completamente non solo si parlava di ridurre da 60 a 30 euro ma in questo caso potrebbe completamente essere stralciata dalla manovra e sarebbe anche una cosa intelligente perché alzare la soglia del pos da la libertà ai commercianti di dire mi paghi col bancomat o mi paghi in contanti la libertà di poter risparmiare le commissioni ma dall'altra parte c'è il il cittadino che non ha più la libertà di poter pagare o col bancomat o con i contanti perché il commerciante molto probabilmente dirà fino a 60 euro mi paghi in contanti quindi la libertà dei commercianti andrebbe a diminuire la libertà dei cittadini e ovviamente andrebbe a favorire comportamenti evasivi ecco di chi già è propenso a fare evasione fiscale pertanto la norma contenuta in manovra che introduce la soglia dei 60 euro sotto la quale i commercianti possono rifiutare i pagamenti elettronici potrebbe saltare lo riferiscono fonti della maggioranza in vista della presentazione di un nuovo pacchetto di emendamenti del governo atteso nelle prossime ore in commissione bilancio alla camera nelle ultime settimane il governo ha avuto sul tema un'interlocuzione con l'unione europea e la commissione europea nel giudizio sulla manovra ha indicato questa misura come non in linea con le raccomandazioni specifiche per l'italia sulla lotta all'evasione fiscale della vedova dice sul post una marcia indietro inevitabile il governo ha fatto un poco onorevole quanto inevitabile retromarcia anche sul post da una parte attacchi inusitati dalla banca centrale europea e il rifiuto di ratifica del nuovo mess dall'altra bocciatura di misure ideologiche inutili però puro autolesionismo anti unione europea e a danno dell'italia scrive su twitter il segretario di più europa benedetto della vedova il mess secondo me ha ragione il centro destra non va assolutamente ratificato perché va contro paesi che hanno un debito alto come l'italia quindi non è che va contro l'italia ma va contro i paesi che come l'italia hanno un debito alto quindi non va ratificato questo è assolutamente sicuro intanto vediamo che non è solo ad esempio savino del ministero dell'economia e delle finanze dice che non c'è da stupirsi se c'è incertezza anche gli uffici sono in affanno in questo momento il governo sta valutando tutte le opportunità possibili in questo momento il ministro sta facendo tutte le valutazioni su questo argomento quello del post immagino che sarà molto chiaro e puntuale su questo tema lo ha detto la sottosegretaria all'economia sandra savino rispondendo in commissione bilancio alle richieste di chiarimento delle opposizioni sulle indiscrezioni secondo cui il governo potrebbe eliminare dalla manovra la norma che introduce la soglia dei 60 euro e vediamo che ci sono altre novità sulla sulla manovra che adesso vado a raccontarvi intanto vabbè il pd si lamenta della norma dei 60 euro e vediamo dice dicono in commissione bilancio vengono accantonati gli emendamenti sul pos che il governo chiarisca le sue intenzioni sulla norma che introduce la soglia dei 60 euro e nel corso di un ufficio di presidenza sono stati avviati contatti con il mef per anticipare al pomeriggio l'intervento in commissione del ministro giorgetti intanto riprendono i lavori in commissione sono stati comunque accantonati le proposte di modifica dell'inalzamento del post tranne quello del movimento 5 stelle sul cashback ora in discussione insomma secondo fonti dell'opposizione non è stato al momento fornita alcuna risposta alla richiesta di anticipare l'intervento di giorgetti ma vi vado a parlare anche della del problema delle multistradali e la retromarcia sullo stralcio delle cartelle sotto i mille euro l'ipotesi che esclude i comuni di che cosa stiamo di che cosa stiamo parlando c'è una seconda bozza di un emendamento del governo le amministrazioni locali cioè i comuni potranno decidere di non applicare la norma il condono delle cartelle slitterebbe comunque a fine marzo del 2023 pertanto nello stralcio delle cartelle fino a mille euro tra il 2000 e il 2015 previsto per il 2023 potrebbe fare eccezione le multe a dirlo è la bozza di un emendamento del governo meloni secondo il quale i comuni possono decidere di non applicare la norma con l'introduzione di una differente applicazione per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali dalle agenzie fiscali degli enti pubblici previdenziali in buona sostanza le multe potrebbero non entrare a far parte dell'operazione di governo che nei prossimi mesi annullerà automaticamente i debiti di importo residuo fino a mille euro sulle sanzioni amministrative incluse quelle per violazione del codice della strada lo stralcio verrebbe applicato invece solo sugli interessi potrebbe slittare questa norma intanto di tre mesi una proroga dell'attuazione dello stralcio atteso per il 31 gennaio 2023 ora potrebbe essere rimandato al 31 di marzo tra i capitoli più importanti della nuova legge di bilancio l'attuazione dello stralcio prevederà l'intervento dell'agente della riscossione che da marzo 2023 dovrà quindi trasmettere agli enti interessati l'elenco delle quote annullate fino al loro annullamento la riscossione dei debiti in questione viene sospesa oltre alla possibilità di escludere le multe la norma non verrà sicuramente applicata eventuali somme dovute per il recupero degli aiuti di stato ai crediti di condanna della corte dei conti all'iva riscossa all'importazione altra importante agevolazione prevista dalla legge di bilancio la possibilità di estinguere senza corrispondere gli interessi i debiti affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e il 30 giugno del 2022 i debiti e i debitori potranno beneficiare di uno sconto su interessi sanzioni e interessi di mora infatti gli amministratori locali i sindaci sono preoccupati dallo stralcio di queste cartelle considerando che il 90 per cento dei crediti comunali non supera la soglia dei 1000 euro grazie a tutti e arrivederci a presto